Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi proviamo il nuovo LG VU, un terminale che LG ha presentato al mondo all'inizio del 2012 ma che ha visto la sua disponibilità sul mercato da circa un mese. Ciò è dovuto ad alcune modifiche che LG ha operato nel corso di questo periodo all'hardware di questo terminale. Poi magari in fase iscrittiva vedremo anche quali sono queste differenze. Il VU si caratterizza come è evidente per questo particolarissimo display che ha una diagonale molto importante da 5 pollici ma soprattutto una proporzione tra la altezza e la larghezza del display in 4 terzi. Quindi in assoluta controtendenza con gli ultimi prodotti del mercato che tendono fortemente alla proporzione 16.0. Poi magari vedremo anche il chiaroscuro di questa scelta da parte di LG. Risoluzione del display 1024 x 768. Il pannello è un display con risoluzione XGA, un pannello LCD IPS veramente molto bello nella riproduzione di colori, molto molto gradevole. Nella parte superiore abbiamo la capsula auricolare, foto videocamera che permette di eseguire anche scatti da 1,3 megapixel, sensori di luminosità e di prossimità. Nella parte bassa abbiamo 4 tasti tipici di Android, tasto home, tasto di ritorno, task manager e il tasto di menu contestuale. L'LGVU esce oggi sul mercato con Android 4.04. In realtà questi 4 tastini ci rimandano alla sua presentazione quando fu lanciato con la versione 2.3 di Android. Come noto il 4.0 ha un'interfaccia nativa che prevederebbe l'utilizzo di solo 3 tasti. Comunque non esiste nessun tipo di problema da questo punto di vista. Guardiamo anche un attimo le dimensioni prima di guardare il resto. Oltre 9 cm di larghezza, poco meno di 14 l'altezza, mentre siamo a 8,5 mm per quanto riguarda lo spessore. Il tutto in 168 grammi di peso. Quindi anche se appare come un dispositivo piuttosto imponente, in realtà è molto molto trasportabile, non eccessivamente pesante c'è qualcosa di più pesante anche tra i suoi concorrenti e comunque il ridotto spessore facilita la sua portabilità. Nella parte destra abbiamo i tasti di controllo del volume, nella parte bassa abbiamo il microfono principale, nella parte sinistra non vi sono tasti ma soltanto questo piccolo sportellino incastonato nel cover posteriore che nasconde la micro sim. Questo sportellino richiede un piccolo uncinetto metallico che troveremo all'interno della scatola per essere aperto. Nella parte superiore abbiamo il tasto di accensione, questo piccolo cassettino metallico che nasconde la porta micro usb mhl, abbiamo l'ingresso cuffia, secondo microfono e questo piccolo tastino che attiverà una funzione quick memo che poi vediamo in maniera un po' più dettagliata. La parte posteriore prevede un cover plastico con finitura ruvida tipo pelle per capirci, molto bella al tatto, il cover purtroppo non può essere rimosso quindi non potremo accedere al vano batteria, la batteria è da 2080 mAh. Nella parte superiore troviamo una foto videocamera da 8 megapixel con flash led, la parte video acquisisce immagine a 1080 punti. Abbiamo poi anche i due altoparlanti di sistema che riproducono dei suoni di buona qualità e di buon volume. Continuando un attimo nella disamina dell'hardware andiamo a trovare un processore Nvidia Tegra 3 quad core da 1,5 GHz, 1 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna disposizione dell'utente. Purtroppo questi 32 GB non possono essere espansi tramite supporti di memoria esterna. Parlando del processore andiamo a trovare un'altra delle differenze a cui facevo riferimento tra il modello presentato all'inizio dell'anno e quello che poi è giunto sul mercato italiano. Il primo LGVU utilizzava un processore dual core da 1,5 GHz che in Italia è stato sostituito, o quantomeno per il mercato europeo è stato sostituito dal processore Tegra 3 che abbiamo già più volte conosciuto in passato e che si è contraddistinto per delle notevolissime capacità di elaborazione grafica. Rispetto al primo view scompare anche il ricevitore TV che era presente nella prima versione. Diciamo che sono state operate delle modifiche probabilmente per renderlo un po' più centrato per alcuni tipi di mercati. Vediamo alcune delle funzioni basiche di questo terminale. Partiamo al solito dalla parte telefonica. La parte telefonica ricalca più o meno lo schema di Android con questi quattro tastoni collocati sulla cima del display. Abbiamo qui l'interfaccia telefonica dotata di una buonissima ricerca intelligente che funziona molto bene, elenco delle chiamate fatte, ricevute e perse, la rubrica e il tastino dei preferiti. Direi che anche la parte telefonica viene promossa a pieni voti per quanto riguarda il dialogo con la rete in ricettrasmissione del segnale e per quanto riguarda anche la qualità del padiglione auricolare che mi sembra molto preciso puntuale nella riproduzione del suono e anche per il livello di volume del suono riprodotto. Quindi direi che la parte telefonica è estremamente soddisfacente. Andando a vedere il browser troviamo il classico browser stock di Android 4, un browser che non ci regalerà particolari novità, direi che conferma tutte le sue caratteristiche positive, la navigazione internet è di altissimo livello e direi che da qui possiamo incominciare a parlare degli aspetti caratteristici di questo terminale. Il fatto di avere a disposizione un display con proporzione 4 terzi secondo me migliora addirittura la qualità della navigazione internet. La sensazione è che la pagina venga riformattata in maniera un po' più naturale rispetto al solito e si ha una visione molto estesa dei contenuti della stessa pagina. Quindi questo è uno dei momenti in cui personalmente mi sento di benedire la presenza di un terminale con un display con una forma così inconsueta rispetto alla tendenza del mercato. Su questo terminale si può fare ancora girare il flash player che come noto da 4.1 non girerà più in maniera nativa nel browser. Andando a vedere alcune caratteristiche del menu troviamo qualche piccolo inserimento di programmi da parte di LG. Mi soffermerei in particolare sulla presenza del tag NFC incorporato all'interno del telefono e poi sostanzialmente abbiamo qualche piccola applicazione che LG ha aggiunto ma poi il cuore di questo sistema operativo lo ritroviamo anche in questo LG view con tutte le sue caratteristiche positive. Bene, sto armeggiando da una decina di minuti anche con il pennino di cui non abbiamo ancora parlato. Lo troveremo in dotazione nella scatola e ci permetterà di interagire con questo terminale. Vediamo qualcosa di particolare. abbiamo accennato prima questo tasto che attiva una funzione che si chiama Quick Memo. In pratica avremo dopo averlo premuto la possibilità di utilizzare il nostro view come un blocco note in qualsiasi posizione ci si trovi. Adesso stiamo nella nostra home page ma anche se fossimo per esempio nel browser internet sempre premendo questo tasto si attiverà il Quick Memo. Da qui noi potremmo decidere di prendere degli appunti, li potremmo cancellare, li potremmo salvare, li potremmo condividere. Sempre da qui potremmo decidere di aprire invece il classico fogliettino sempre per prendere gli appunti. Potremmo scegliere di modificare il tipo di tratto della nostra penna, quale colore utilizzare. Quindi avremo un livello di personalizzazione completo di quello che stiamo facendo. Il pennino tra l'altro in queste situazioni si rivela anche discretamente preciso. Direi che questo gli va a merito soprattutto considerando che ha una punta piuttosto grossa e gommosa. Forse quella dei note è un filo più precisa però va piuttosto bene anche questo. Senz'altro questo è uno dei valori aggiunti di questo terminale. La possibilità di un utilizzo così immediato delle funzioni di scrittura è senza dubbio molto valida soprattutto per un utilizzo business direi ma probabilmente anche per un utilizzo ludico di questo apparecchio. Mi viene in mente anche utilizzando il navigatore si possono evidenziare alcuni punti di interesse dove ci si trova dove si deve arrivare ma anche andare a modificare delle delle immagini dopo averle dopo averle scattate mi sembra una cosa una cosa piuttosto piuttosto carina. Quindi questo l'utilizzo di questo programma l'utilizzo del pennino chiaramente crea uno stacco rispetto ai ai terminali anche di fascia alta sempre di casa LG portando il view in una nicchia di mercato senza dubbio un po' più specialistica un po' più probabilmente orientata al mondo al mondo business. Io direi di fare qualche considerazione proprio partendo da qui. LG ha creato con questo view qualcosa che assomiglia un po' ai ai vecchi palmari che avevano quasi tutti questa proporzione del display in quattro terzi una soluzione che io ho sempre trovato molto interessante devo dire sinceramente che la preferisco rispetto all'attuale tendenza del 16 noni mi sembra di avere una visione di insieme della pagina molto più completa con questo tipo di risoluzione. Certamente il view non brilla per gradevolezza estetica appare un pochino tozzo un pochino troppo largo però forse è giusto trovare un punto di compromesso tra una facilità di utilizzo e l'estetica del terminale che stiamo utilizzando. Oltretutto devo dire che nell'utilizzo non si manifesta nessun fastidio anche essendo un pochino direttamente più largo rispetto ai suoi concorrenti si fa maneggiare con estrema facilità si porta in tasca quindi è un terminale che anche se può apparire come enorme devo dire che l'avevo sempre inteso come più grande di quello che è in fotografia e nei video che vedevo in giro. È un terminale senz'altro con delle dimensioni abbondanti ma non sono né esagerate né tantomeno intrasportabili per essere utilizzato come un normale telefono cellulare. Quindi direi che se devo far prendere la bilancia direi che trovo che sia una soluzione molto valida quella che LG ha scelto per questo tipo di terminale. Andando a vedere qualche altro dettaglio vediamo un attimino la foto videocamera. La foto videocamera a parer mio ha un po' anch'essa di chiaroscuri nel senso che mi sembra soffrire un po' di più rispetto ad altri terminali la mancanza di luce. Direi che c'è l'insorgenza di rumore elettronico un po' presto rispetto ad altri telefoni per quanto per quando si va ad operare con delle scarse condizioni di luce. Ricordiamoci sempre che abbiamo a che fare con dei telefoni non con delle macchine fotografiche vere ma mi sembra da questo punto di vista un filino sotto la media. Interessante la possibilità di scattare un'immagine durante l'acquisizione dei video. Quindi sostanzialmente il telefono estrarà un frame dal video e ci riproporrà nella galleria un'immagine con risoluzione 1920x1080. È comunque una funzione che trovo estremamente comoda perché ogni tanto ci si rende necessario il fatto di poter scattare un'immagine anche mentre facciamo dei video. Bene, direi che possiamo formarci qui per queste chiacchiere sull'LGVU. Facendo un po' un riassunto di tutto devo dire che trovo che sia un terminale estremamente interessante. Al di là delle anche giuste valutazioni estetiche direi che è un prodotto che funziona bene e estremamente versatile e flessibile nel suo utilizzo quotidiano. A ciò mi sembra giusto aggiungere anche un prezzo di acquisto che è nettamente più basso rispetto ai suoi concorrenti principali. Se consideriamo che il Note 1 e il Note 2 navigano allegramente verso i 700 euro di listino mentre questo si trova abbondantemente sotto i 500 euro direi che si presenta come un terminale con una quadratura del cerchio veramente eccellente. È un terminale che mi sento di consigliare a chiunque intende entrare in questa particolare fascia di mercato rappresentata dai non telefoni e dai non tablet. Bene, mi fermo qui, quindi un saluto da Ivan e alla prossima!